Ciao a tutti ragazzi io sono Coridan ancora una volta ben ritrovati nel mio canale Oggi finalmente con immensa felicità vi presento Descent nella nuova edizione della Fantasy Flight Games Descent leggende delle tenebre in questa edizione in italiano che vedete qui davanti con delle miniature, dei mostri Vi ho fatto soltanto una rappresentanza, l'ho preso un po' a caso tanto sono tutte belle In questa edizione italiana a cura di Asmod Italia che io ringrazio di cuore per avermi offerto questa copia per la recensione E ragazzi si parla di un capolavoro che ha fatto tantissimi anni di storia Arrivato al momento in questa sua nuova edizione che è la terza edizione e che è veramente qualcosa di spettacolare E che speravo di portarvi e come vedete è ricco di contenuti e tutto quello che vedete qui davanti Vi assicuro non è nemmeno la metà della roba che c'è dentro la scatola Ve ne parlo a breve dopo la sigla Descent, vi ricordate il vecchio Viaggi nelle tenebre che era la seconda edizione Mentre questo Descent, leggende delle tenebre, condivide la stessa ambientazione che è sempre quella di Terrinoth Tra l'altro è uscito un romanzo, guardo di là perché ce l'ho di là, Il Destino di Fallo Art Che vi rimando a vederlo sul mio canale, che parla proprio di questa nuova ambientazione Che ha una scatola immensa, straricca di contenuti che poi vedete nel corso del video Ha tre piani perché hanno fatto una cosa geniale, che ora ce l'ho qui dietro Nella scatola hanno fatto un fondo perché non potete andare a montare delle cose, degli elementi scenici in 3D Soprattutto in cartoncino, bello spesso e bello duro, però comunque sempre in cartoncino Monta, leva, monta, leva, fa un po' l'effetto di il vecchio Tel, se vi ricordate Che facevi prima incollarli perché dopo tre volte che ci giocavi erano già tutti quanti spanati e rotti Quindi scale, addirittura librerie, tavolini e quant'altro Conviene montarli una volta solo e lasciarli montati E la Fantasy Flight ci arriva con una scatola del genere, così Però dove la parte in fondo è soltanto per mettere dentro tutta la roba Così voi siete pronti, ce l'ho qui dietro Con la roba già montata, la tirate fuori dalla scatola E siete pronti per giocare Barricate, cose del genere E poi ci sono anche gli indicatori vita Per segnare i punti feriti attuali che sono già montati Voi mettete direttamente dentro la scatola Che è praticamente una specie di doppio fondo E siete a posto Ragazzi, vi spiego un pochino come funziona Ma l'idea principale Hanno, diciamo, ampliato ancora di più Verso la componente videoludica La seconda edizione di Descent Perché la prima era un gioco normale Vi ricordate, cooperativo con un Dungeon Master O comunque regole per muovere i mostri La seconda era un gioco invece completamente cooperativo Guidato da App Questa terza edizione è ancora un gioco totalmente cooperativo Ma dipende Se davvero la seconda edizione, quella precedente Era dipendente all'85-90% dall'app Questa al 99% Infatti c'è qualcuno che magari anche ha ragione È vero, non posso criticare Lo ha, poi i gusti sono gusti Lo ha definito il gioco da tavolo nel videogioco Cioè, come dire, questo videogioco ha anche una componente board game Che è una mezza verità Abbiamo l'app che ci guida nell'avventura Nel setup, nella creazione dei personaggi Nei buff che riceveranno Nei debuff, nell'equipaggiamento Nei combattimenti Insomma, ragazzi, niente di nuovo Per chi segue e adora i prodotti Fantasy Flight Io sono il primo Sappiamo che la maggior parte dei loro giochi sono così Tantissimi esempi potrei prendere Il primo, che è il nostro dungeon crawler preferito L'abbiamo sempre detto Guidato da app Se no ci sarebbero iro questi e tanti altri titoli Le case della follia È un gioco, seconda edizione È un gioco totalmente dipendente dall'app Il Signore degli Anelli Viaggia nella terra di mezzo Stessa cosa E questo Uguale Stessa strada Hanno voluto tenere questo stile Perché hanno visto che comunque Che il loro cliente Alla loro clientela Piace da morire Perché Sì, è vero Un po' i puristi come me Del vecchio Iro Queste li piace fare da dungeon master E cose del genere Però A parte che sono passate anche la bellezza Di 20-30 anni Però si sente anche un po' la voglia A volte Soprattutto con i tanti videogiochi Che ci sono ora Di fondere un po' il gioco da tavola Il videogioco Ed è bello sentire nelle case della follia Una cavolata L'incipit della storia Con un doppiatore Veramente da paura italiano Come Merluzzo Lo è Che a noi piace da morire Sentire la voce di Merluzzo Che ti fa l'incipit Se arrivate a Villa Vanderbilt Tutto quanto Ed è veramente Uno spettacolo assurdo E anche in questa edizione L'app è totalmente tradotta In italiano Come abbiamo visto anche Ad esempio In Star Wars Assalto Imperiale C'è questa voglia Di avvicinare Il videogioco Al gioco da tavolo Così da prendersi Anche un pochino più Di fetta di clientela Essere sinceri E il regolamento Non cambia tanto Le meccaniche di gioco Non cambiano enormemente Rispetto alla seconda edizione Abbiamo sempre l'app Che ci dice Ok chi vuoi attaccare Tizio Te prendi l'omino Lo trascini col dito Sul tablet Sul computer Sul telefonino O anche su Steam Sul nemico E lui ti dice Ok tira questi dadi L'hai ferito Assorbito tot colpi Oppure semplicemente Esplorando Ad esempio La mappa di gioco Potreste trovare Che ne so Una libreria Come questa che vedete Qui davanti La mettete sul tavolo Perché ovviamente È l'app che vi dice Come preparare il tavolo E tutto quanto Nel setup Mano a mano Che andate a scoprire E voi cliccate Sulla libreria Dall'app Per vedere Con un'azione di ricerca Delle tre Che avete disponibili Azioni complessive Ogni turno Vi dirà Se avete trovato qualcosa Magari ho trovato Un'ampolla Magari ho trovato Un oggetto magico Un pugnale Una spada Magari una pozione di cura E è lo stesso Come abbiamo visto Nell'ato Descent Però questo Lo vedo molto di più Basato appunto Sull'app Perché anche l'app Praticamente è un videogioco Dall'animazione Dal menu iniziale Dai combattimenti Si sentono i colpi Delle armi Ad esempio Oppure le gente atmosferiche Oppure anche i suoni All'interno del gioco È veramente Veramente Secondo me La maniera migliore Che hanno avuto Per unire Il gioco da tavolo Al videogioco E a parer mio Gli è uscito Veramente molto bene Per quello che Vi ripeto Le meccaniche Sono assottigliate Rispetto alla seconda edizione Questa è molto più veloce Però bene o male Sono quelle lì Si tira il dado Il dado dell'arma Che andiamo ad usare Se facciamo un colpito È un punto ferita O due o tre Perché ci sono armi Che fanno anche più Di un punto ferita Se facciamo un risultato Di possibilità O vantaggio Comunque lo possiamo Convertire Usando fatica Punti fatica Che abbiamo Lo possiamo convertire In un successo Oppure se attiviamo Qualcos'altro sul dado Magari ci darà la possibilità Di attivare Una nostra abilità speciale Oppure un'abilità speciale Dell'arma che stiamo utilizzando Ed è veramente interessante Anche la meccanica Che quando andiamo A combattere i mostri Ciascun mostro Comunque il 90% Hanno una debolezza A qualcosa Magari qualcuno Alle armi perforanti Qualcuno alle armi Da punta Qualcuno alle armi Magari da botta Contundenti E dobbiamo scoprirlo noi Quando li avremo feriti L'app ci dirà A cosa lui è vulnerabile E ogni volta Che andiamo a fargli Una ferita Gli ne faremo Una in più Quindi tre ferite Diventa in quattro Due diventa in tre E così via Il gioco è veramente Ricco di contenuti In una scatola Immensa A tre piani Piena zeppa di roba E le meccaniche Ragazzi Sono veramente Più o meno le stesse Semplificate In conclusione ragazzi Questo nuovo Descent Leggende delle tenebre È il gioco Secondo me Che ci voleva Per a questo punto qui Proprio far Sposare le due meccaniche E i due mondi Che non sono nemmeno poi Così tanto distanti Ma si orbitano intorno Che sono i videogiochi E il gioco da tavolo E la Fantasy Flight Sta andando nella direzione giusta Perché io onestamente Conosco gente Che anche mi segue Che mi dicono Io non sono tanto Da giochi da tavolo Però le case della follia Me le sono prese Perché mi piace L'app Che mi guida Nell'avventura Mi sembrava di fare Un gioco per computer Ed è una mossa commerciale Non indifferente Io ringrazio ancora una volta La Asbo d'Italia Per avermi effetto Questa copia per le recensioni Prodotto ricordo Della Fantasy Flight E ragazzi Veramente È uno spettacolo Il costo è alto Secondo me non è medio alto Stavolta è alto Perché si parla di Almeno prezzo di listino Poi ogni negozio Fa i suoi sconti Di 170 euro Che non sono così pochi Perché comunque È tanta roba Per un gioco del genere Però ci sono Una cinquantina di miniature Fra eroi Che avete visto Poi avevo fatto Nel corso del video Vedere un po' L'interno In questo nuovo modo Che c'ho di fare gli unboxing Che preferisco anche Rispetto a prima Però c'ha delle miniature Che sono bellissime Da dipingere Tutto quanto E tantissime componenti Che qualcuno Ha detto a un certo punto Sì però Di cartone Se te l'avessero fatte Di plastica O di resina Ancora peggio Te l'avrebbero fatto pagare 250 300 euro Quindi vanno bene così Ragazzi Ci abbiamo giocato una vita Con hero questa Non ci siamo mai lamentati E va bene così Se volete Come vedete Nota E soprattutto Sempre link in descrizione Trovate Nel negozio di memoglie Electra 3D print Trovate direttamente La pagina su facebook Se volete Si possono stampare Anche elementi scenici In plastica Quindi tutti quanti Questi elementi scenici Si possono ripimpare Per il vostro board game In plastica Quindi nel caso Contattateci Per avere un preventivo Senza impegno Completamente gratuito E magari se volete Vi se li fa Tutto il gioco In plastica Io ringrazio Ancora una volta Asmode Per avermi fornito Questa copia per la recensione E ragazzi Datele una possibilità E provatelo Perché secondo me È veramente uno spettacolo Ma onestamente Onestamente Metto le mani avanti Per quanto è il mio Un canale pubblicitario E l'ho sempre detto Metto le mani avanti Se cercate un gioco In vecchio stile Alla hero questa Dove volete voi Muovere mostri E volete stare Completamente distaccati Dall'app Che vi guida In tutto e per tutto Lasciate stare il gioco Assolutamente Perché magari Ci sono altri titoli Più consoni a voi Questo è un gioco Completamente fuso Con la controparte Videoludica E l'app vi guiderà Come dungeon master Al 100% Quindi pensateci bene E se deciderete Di comprarlo Secondo me Sono 170 euro Spesi da dio Veramente da paura Ed è un dungeon crawler Che a tutti gli appassionati Del genere E di Descent Non deve assolutamente mancare Ciao a tutti E alla prossima